amici di planet spin benvenuti sul canale e benvenuti a questo nuovo video allora vi siete mai chiesti perché le esche in gomma come gli shad o i minov sono più catturanti vincenti ecco nei confronti di esche rigide e perché sono le esche preferite da chi pratica la pesca spinning esso sia in mare acqua dolce o acqua salmastra bene in questo video analizziamo insieme quali sono le caratteristiche principali di queste esche morbide e perché sono particolarmente adescanti e vincenti inoltre nei prossimi video vi farò vedere alcuni esche artificiali alcune esche artificiali in gomma che io utilizzo e che magari ancora non conoscete e che potrete utilizzare nelle vostre battute di pesca sigla e partiamo andiamo allora partiamo dal principio e prima di iniziare facciamo una considerazione sulle esche morbide solitamente sentiamo parlare di artificiali siliconici ma questo è un concetto fondamentalmente sbagliato perché il materiale costruttivo non è un derivato dal silicone ma si tratta principalmente di due mescole la prima è il pvc e la seconda è il tpi che è una mescola più morbida c'è da sapere che la differenza principale fra queste due mescole il tpi e il pvc è principalmente l'allungamento del materiale il pvc si allunga meno del tpi e quindi solitamente con il pvc avremmo un'esca dalla mescola più rigida in conclusione non si tratta di esche siliconiche ma sarebbe più opportuno chiamarle semplicemente soft bait esche morbide o meglio ancora esche in gomma una cosa da sapere che è sconsigliato avere nella stessa cassettina delle esche un mix fra le due diverse tipologie di esche di diverso materiale perché il materiale costruttivo delle tpi le rende molto aggressive ovvero le esche realizzate in tpi sono molto corrosive nei confronti di altre tipologie di gomme ma anche della plastica in genere molte volte ecco ci accorgiamo che queste esche corrodono cercano di corrodere anche le plastiche stesse della cassettina dove le riponiamo dopo l'uscita potremmo notare che tendono a deteriorare qualsiasi cosa a contatto con esse ma non perché come tanti pensano sono trattate con degli additivi degli shand a base acida ma è proprio per la caratteristica del materiale di cui sono composte oggi tratteremo principalmente di shad e di minov associati a testine piombate nella nostra guida sulle esche artificiali e in altri video che sono presenti sul canale le abbiamo collocati nella categoria delle esche ibride queste esche in gomma hanno in qualche modo migliorato e rivoluzionato un concetto già conosciuto quello delle esche ibride dove ripeto ad un corpo in gomma viene associata una testina piombata era già esistente sul mercato però in alcune tipologie ecco è stata anche migliorata la possibilità di innesco e di intercambiare i vari corpi alle varie tipologie e forme di testina la forma comune di diciamo di queste esche artificiali è quella che richiama il pesce foraggio in gergo si tratta di minov o di shad anche a seconda della tipologia di coda che viene associata alla forma del corpo andiamo adesso a scoprire insieme quali sono le caratteristiche principali caratteristiche che rendono particolarmente vincenti queste esche in gomma e le scopriamo insieme queste esche sono capaci di emettere delle nuove vibrazioni che sono totalmente differenti da quelle ormai già note a tanti predatori come ad esempio i jerk i minov palettati i darter i vtd da considerare che in tanti spot soprattutto quelli più esposti ad un'alta pressione di pesca ovvero quelli maggiormente frequentati dai pescatori i pesci si sono ormai come a sue fatti alle vibrazioni emesse dalle esche artificiali rigide e non reagiscono quasi più ad esse c'è bisogno quindi di trovare una soluzione alternativa per andare a coprire ecco queste situazioni su pesce già abituato a sentire a vedere tante tante tipologie di esche artificiali praticamente tanti pescatori come come me ad esempio si sono accorti che in determinati punti in determinati spot in determinati posti e soprattutto su pesci istanziali come la spigola o il barracuda e in alcuni casi anche il pesce serra possiamo notare che molte volte questi predatori seguono la nostra esca artificiale senza mai decidersi ad attaccare e a sferrare ecco l'attacco decisivo molte volte questi questi predatori questi pesci colpiscono con la coda la nostra esca per scacciarla e questo è un sintomo che ci fa capire che loro hanno identificato questa imitazione come un pericolo da evitare è proprio in questi contesti che nuove vibrazioni come quelle emesse da un'esca in gomma per esempio può fare la differenza e permetterci quella cattura le vibrazioni dell'esca in gomma principalmente sono dovute derivano dalla presenza e dalle dimensioni della codina del corpo in gomma ma in tanti casi sono anche le lamelle eventuali presenti sul corpo dell'artificiale o la o la sua forma caratteristica a ecco emettere delle particolari vibrazioni che sono molto diverse da quelle generate dai classici min o voi jerk dove è presente la classica paletta la bavetta di testa nelle esche rigide no e quindi sono delle vibrazioni più stimolanti verso il predatore che non è ancora abituato a suo e fatto a queste vibrazioni particolari un'altra dote molto importante delle esche in gomma di queste esche ibride di cui stiamo parlando oggi è l'ottima lanciabilità anche in presenza di vento contrario si riescono a fare tanti metri perché generalmente queste esche sono dotate di un corpo molto compatto capace di avere un buon peso concentrato in poco spazio queste esche sfruttano la aerodinamicità dovuta alla poca resistenza all'aria e è proprio la testina di queste esche che guida l'esca durante la fase di lancio e il corpo in gomma segue orientandosi senza applicare troppa resistenza all'aria anche chi non è pratico di lancio chi non è molto tecnico nelle fasi di lancio riesce a lanciare ad una buona distanza e con precisione anche i modelli più leggeri con queste esche non serve avere una grande padronanza delle fasi di recupero delle esche artificiali in genere sono esche adatte a tutti anche e soprattutto per chi si è avvicinato si vorrebbe avvicinare alla pesca spinning perché basta un semplice recupero anche lento lineare per fare entrare correttamente l'esca in pesca nel modo corretto altre tipologie di esche artificiali rigide classiche come ad esempio i jerk, le skipping lure, i vtd necessitano di una piccola padronanza diciamo tecnica delle fasi di recupero queste per renderle maggiormente efficaci verso i predatori invece con i soft shad non avremo bisogno di grandi doti tecniche possiamo semplicemente aggiungere facendo delle variazioni magari volendo delle piccole cercate verso l'alto con la nostra canna per far reagire all'esca con piccoli saltelli magari nei pressi del fondale per esempio questi movimenti della canna ravvivono ulteriormente la nostra imitazione ed aumentano anche l'efficacia del nostro artificiale nei confronti di eventuali predatori che si trovano nella zona di pesca oltre al classico recupero lineare o diagonale le esche siliconiche, le esche in gomma, le soft bait chiamatele un po' come volete, si prestano anche al recupero in verticale dove possiamo alternare dei recuperi a delle pause, degli stop and go proprio per questo motivo ci danno la possibilità di poterle utilizzare sia da riva ma anche e soprattutto da una tante come una barca, un belly boat o un kayak inoltre sono esche che noi possiamo utilizzare anche dalle banchine che hanno una buona profondità in verticale, delle banchine su alte profondità, le possiamo lanciare all'interno delle zone portuali sotto le imbarcazioni per esempio a filo di scogliera e quindi in questo modo ci aprono degli scenari e degli approcci di pesca totalmente innovativi e magari anche inesplorati con le esche in gomma possiamo far saltellare la nostra esca, poggiare, vibrare, ticchettare, sfiorare ecco sono tutti concetti nuovi che non si possono applicare alle esche tradizionali, classiche come ad esempio i Minov e i Jerk e ci aprono la possibilità ecco anche di spaziare con la nostra fantasia nel loro utilizzo Io penso che una delle caratteristiche principali che deve avere un'esca è quella di essere riconosciuta anche dal pescatore per avere magari un nuoto realistico, quante volte andando a provare le esche artificiali anche noi stessi ci meravigliamo ecco di come può essere realistico il nuoto di alcune esche e quello che mi succede spesso pescando con le esche in gomma o determinati esche rigide come i Minov per esempio quindi la particolarità che hanno le esche in gomma è quella di avere un nuoto estremamente realistico e rendono anche con un semplice recupero lineare a dar vita ad un pezzo di gomma altrimenti inanimato. Ovviamente non è solo il nuoto realistico che è il punto il focus ecco di centrale del successo di queste esche artificiali ma è sempre un mix tra tutte queste caratteristiche perché sappiamo bene che per ingannare magari predatori più astuti non basta presentargli un'imitazione che richiama le livree oppure le movenze di un pesce magari senza che esso abbia un odore particolare emette delle vibrazioni particolari perché sappiamo bene che in tante occasioni e i pescatori che utilizzano le esche naturali lo sanno bene questa questa caratteristica i pesci non attaccano le esche artificiali o le esche le altre prede se non hanno delle determinate caratteristiche e quindi volete che loro non sappiano riconoscere un'esca in gomma da un'esca rigida oppure da un'esca vera da un'esca finta ecco quindi la particolarità che hanno queste esche la particolare il particolare mix tra tutti questi fattori rende maggiormente efficaci queste queste esche in gomma. La caratteristica di avere una grande tenuta della corrente è un altro pregio delle delle imitazioni soft le possiamo far lavorare anche intrattenuta molte volte sia nella pesca in mare per esempio nei giri di risacca tra le onde ma anche in ambienti come le foci dei fiumi queste esche hanno un grande utilizzo lavorano bene sia con recuperi e con presentazioni ultralente che più veloci sia in ambiente fluviale come all'interno delle foci o proprio all'interno del fiume magari cercando predatori diversi da quelli che possono risalire la corrente provengono dal mare e possiamo scandagliare per esempio gli altri habitat come gli specchi d'acqua salmastra l'acqua dolce ai laghi le cave sia andando nei tratti più profondi del del fondo oppure del letto del fiume ma allo stesso modo possiamo pescare sulla mezz'acqua sullo strato più superficiale che cosa facciamo dobbiamo capire qual è il giusto compromesso fra la grandezza della nostra combinazione quindi testina corpo adeguatamente mixato ecco per scegliere quella ideale per il nostro scopo per questo dovremmo avere una grande varietà di modelli e selezionare quello che fa al caso nostro con il giusto compromesso fra peso forma e dimensione allo stesso tempo dovremmo agire anche sulla velocità dei giri di mulinello ecco con cui recuperiamo l'esca e magari in altre particolari condizioni dovremmo anche regolare l'inclinazione della canna durante la fase di recupero per magari tenere l'artificiale più o meno in in basso sulla colonna d'acqua rispetto ad altre esche come ad esempio i jerk e soprattutto i long jerk con l'esca in gomma noi riusciamo a proporre una presentazione meno invasiva e ce ne accorgiamo già dalle fasi di lancio quando la nostra esca arriva in acqua farà meno rumore rispetto a quelle rigide e questo anche grazie al corpo in gomma che ne attutisce in parte l'impatto con con l'acqua spesso che succede quando la nostra esca artificiale entra in acqua crea un rumore crea un disturbo verso i pesci che sono presenti in quella in quella zona e molto spesso li induce alla fuga grazie invece all'esca in gomma potremo presentare meglio la nostra imitazione riducendo l'impatto sonoro molto spesso per pesci stanziali come faccio sempre l'esempio della spigola all'interno dei porti oppure all'interno delle foci ma è lo stesso discorso anche per per i bass o per le trote che sono in ambiti totalmente differenti è davvero fondamentale ridurre al massimo i rumori e le vibrazioni che possono creare disturbo o che spaventano i pesci che sono magari intenti a mettere in atto la loro azione di caccia che si tratti di un'esca delle grandi dimensioni o dalle piccole dimensioni poco conta ma quello che è importante sapere che l'esca in gomma arrivano in pesca subito dopo essere arrivate nell'acqua anche in caduta noi sappiamo bene che l'esca inizia già a lavorare ad emettere vibrazioni a scodinzolare magari se è presente una codina paddle shad questo sempre con un approccio discreto un approccio silenzioso con queste esche in gomma riusciremo ad entrare così in pesca proponendo una presentazione il meno invasivo possibile è sicuramente migliore di altre presentazioni rigide classiche come i jerky crank e altre esche rigide allora amici di planet spin siamo giunti alla conclusione di questo nostro video ecco io ho cercato di trasmettere quelle di darvi ecco quelle che sono le mie opinioni in merito alle esche in gomma alle imitazioni soft come gli shad e minov perché li reputo tra le esche più performanti che possiamo utilizzare nel panorama della pesca spinning a 360 gradi ringrazio tutti voi per la visione di questo video se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale ecco perché in questo modo mi darete la possibilità di crescere sul panorama web ringrazio tutti voi nuovamente per la visione di questo video e noi ci vediamo al prossimo appuntamento come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di planet spin ciao ragazzi alla prossima